Questa canzone per me è molto importante, mi ricorda un vecchio amico che si era fatto proprio la felpa personalizzata, cani sciolti, in relazione all'Oday Clan. Questa canzone è molto importante perché racconta perfettamente quello che è stato Ergitano. Ragazzi ai tempi se volevi fare il gangsta rap dovevi un attimo conquistartela la credibilità perché veramente ti venivano a prendere Ion e Ergitano e ti prendevano a pizza se ti andava bene. Perché questa è gente che era abbastanza fuori di testa e vivevano ambienti che nel momento in cui tu canti certe cose poi le devi dimostrare perché sennò sono cazzi tuoi. In certi ambienti non si scherza, il criminale si sente lodato quando parli di una certa vita ma gli dà comunque fastidio che ci sia tu al centro dell'attenzione e quindi devi demeritartelo quel centro dell'attenzione. E questa era un po' la logica degli Oday Clan prima che fossero tutti morti praticamente. Pepe Rap diceva ancora sulla scena coi miei limiti e questo è importante perché questi ragazzi non erano tecnicamente forti, non erano nulla di così eclatante sul beat, ciò che colpiva erano quello che raccontavano. Come lo dicevano. E l'immaginario che mostravano che era reale. Cioè, questa canzone, io adesso cerco un attimo il testo perché veramente ne vale la pena riprenderlo, anche se in verità lo so a memoria, dovrei saperlo ma non voglio rischiare. Tra l'altro con Saga il secco che faceva dei ritornelli della Madonna e dice Che là fuori quante madri piangono, un figlio a uomo, appena pargolo, stringi in ferro e spingi all'angolo. Per ogni notte fuori, ogni lacrima, la strada è come il diavolo, prima o poi ti ruba l'anima. La verità è che c'ho il cuore spaccato a metà e se non ho pietà è perché il mondo non ce l'ha. Ed è qualcosa che rimane a vita e sangue e piombo su ogni cazzo di ferita. Ed Ergitano ti dice Sono un bandito, ahci, sono un cazzo di malvivente, pieno di rabbia da divide con sta gente. Cioè, ora, il sogno mio è di stare le dieci beato dentro al letto ma tengo il ferro pronto all'uso nel cassetto. Cioè, ancora qui, poco fa ho registrato il podcast di Vida Locca dei Claddogo. Ecco, la logica è la stessa. Non è il racconto sterile di chi vuole fare il malandrino. E' lo sfogo di chi si ritrova questa condanna sulle spalle di questa vita ed è costretto a mandare avanti questa situazione. E' questo, perché uno dice Eh, ma mai non puoi uscire. Esci un po' tu, da quando sei in un giro grosso, a livello mentale. Quando finisci di fare certe cose o magari vai in galera e finisci la pena, torni nella società, sei un niente. E c'è l'orgoglio che ribolle. C'è la scena di Peaky Blinders, di quello che dice Che fai? Spari la merda? Sì, mi ricordo che cosa sarei se non facessi quello che faccio. Non tutti sono pronti a ripartire, non tutti hanno gli strumenti. Oggi c'è la psicanalisi, oggi c'è un mondo completamente diverso. Ai tempi non era così. Non sto giustificando i criminali. Sto solo cercando di farvi capire e spiegare di cosa parla questa canzone. Cosa racconta questo brano. E che tipo di male cura musica come questa per chi la ascoltava ai tempi e l'ascolta oggi? Io questo sto dicendo. Perché Ergitano, poraccio, si è sparato un colpo in testa? E questo è emblematico. Ci ha spezzato il cuore a tutti perché Ergitano era uno con due palle così. Era una brava persona. E non lo sto dicendo, ho seguito molte sue vicende. Sì, è chiaro, se gli rompevi il cazzo ti staccava la testa, però era una brava persona. Aveva dei buoni valori. Non era una persona cattiva, perché sempre i buoni poi ci rimettono. Quella è la verità. E Odei Clan era un gruppo serio. Un gruppo di persone che credeva in quello che faceva. E che lo faceva puramente per esigenza. Non lo faceva perché doveva farsi vedere. Non faceva il rap giusto per. Faceva il rap perché se lo sentiva dentro. Faceva il rap perché era il grido della periferia di Torbella Monaca. E via dicendo. La periferia romana, secondo me, non ha mai avuto rappresentanti degni quali Odei Clan, Truce Clan. Però Truce Clan era un'altra rappresentazione. Era un'altra questione. Questi raccontavano proprio loro stessi, ma lo facevano con semplicità. Non hanno mai detto siamo dei grandi rapper. Non hanno scritto la storia del rap. Sono passati come mosche bianche nella scena. E' questa che rende ancora più forte questo verbo. Ora che non ci sono più. Perché sì, Odei Clan c'è, c'è Yon. Ma Yon oggi che sta combinando? Sta cercando di mandare avanti qualcosa. I beef, quei ragazzini, ok. Ma Odei Clan per me sono Pepi, Ergitano, Sager Secco. Punto. E sta canzone per me è il pezzo più bello che hanno fatto. Per me è il miglior brano. Perché racconta perfettamente quello che è stato, che era e che sarà per sempre per chi l'ha vissuto Odei Clan e le borgate di Roma. Nulla più, nulla meno. Non mi pare poco.